Così il sistema di pensiero, seguiamo l'aspetto dell'ottimista, noi siamo ottimisti come associazione e siamo contenti di dare questa prima notizia alla DOP perché ve la potete scrivere, con noi abbiamo la fondazione Cariplo che ha stabilito e già deliberato un contributo fuori bando di ben 100.000 euro. Questa è la prima notizia buona che voglio dare perché l'Avvocato Guzzetti si è impegnato direttamente perché quando siamo andati a presentare il progetto Milano gli è piaciuto e quindi ci è arrivata la propria notizia che abbiamo il contributo di fondazione Cariplo, per noi questo è fondamentale per andare a coprire i costi. Bene, allora, con questa prima notizia io adesso toglierò i panni di coordinatore del progetto, rientrerò dopo, diventerò moderatore e passerò la parola al Presidente di Amici di Como, Silvio Sant'Ambrogio.